Onorevole Gea, voi dite no all'Europa, all'Europa diversa, in una battuta una cosa concreta che proponete di fare perché l'Europa cambia, ma in una flash. Ridiscutere i trattati, i vincoli economici che stanno veramente rendendo un intero continente lo zerbino del mondo, perché oggi siamo questo, risolvere il problema della povertà dando veramente una dimensione concreta. Tsipras ha firmato oggi questa dichiarazione, Tsipras sa benissimo che cosa vuol dire essere vittime delle politiche europee, il suo paese è flagellato dall'austerity, dalla troica, guardiamo alla Grecia perché il nostro futuro in prospettiva in questa direzione è esattamente quello.